In streaming dall'estero, la Sabina che fra poco inizia la presentazione. Cuochi, cuoche varie, cucina relazionale, interessante. Andate alla libreria delle donne, via Vincenzo Calvi, 29 Milano. Pietro Calvi. Pietro Calvi. Bene, sono le 8.05, so che altri ospiti stanno cercando di raggiungerci. Questa sala è piena, cosa che succede di rado qui. Quindi mi sembra che sia un omaggio importante a la libreria delle donne. Vedete, si sente? Non si sente nulla? Si sente. Adesso si sente. La libreria delle donne, vedete che abbiamo una vignetta di Pancarra, seguita poi da una battuta carina che dice non disturbate la libraria perché la libraria sta leggendo. Questo già ci dà la misura della stranezza di queste libraie e dell'importanza di questo luogo storico che spero diventi poi nei prossimi anni un patrimonio comune delle donne milanesi. Io come donna qualunque, sono arrivata, amiche, amiche. E voglio dire qui a tutti quelli che ben conoscono la libreria delle donne che una delle speranze di quelle che appunto ammirano e frequentano dall'esterno questa libreria è che poi diventi davvero un patrimonio delle donne milanesi e che si trovi il modo di far conoscere di più questo luogo perché una volta che uno ha trovato la strada, ha trovato un tesoro. Ci siamo adesso rivolte alle giovani ragazze che si occupano della comunicazione, degli eventi culturali che si involgono in Cascina e le abbiamo sorprese raccontandogli che nel loro bar, proprio in quei minuti mentre loro erano lì di Gnare, stazionavano alcune fra le donne più importanti in Milano alcune fra le donne che filosofi, studiose, scrittrici, cuoche sono parte integrante di un patrimonio culturale che deve continuare ad esistere e soprattutto deve, a mio parere, diventare un po' un contributo anche per le giovani la fanciulla che si occupa della comunicazione quindi è scesa si è informata, ha guardato su internet, li ha trovato, è arrivata e si è messa a disposizione perché è rimasta colpita dai contenuti di questo piccolo libro che ho qui in mano, che si chiama Cuoche vari e fuochi la cucina di Estia, o Estia, ancora non ho ben conto Estia Estia, tutte e due vanno bene, dice la Luisa Murata appunto, un po' di signore di cui parlavo prima allora, naturalmente sappiamo tutti quello che è stato Expo e penso che qui in questo luogo così defilato ci possiamo permettere di dire che forse il grande contenuto nutrire il pianeta che riguarda così da vicino le donne non è poi stato valorizzato così come si era sperato ma comunque possiamo accontentarci direi che in questo luogo la cascina di Luisa un po' defilato forse si parla per la prima volta del rapporto e dell'apporto straordinario delle donne del mondo alla cucina intesa in senso lato cioè una cucina che nutra il corpo ma che nutra anche l'anima la cucina relazionale così viene chiamata dalle nostre cuoche che sono tra l'altro presenti qua e che io spero più tardi ci possano raccontare delle cose questi sono gli interni della libreria che io penso che tutti voi conosciate spero che ci siano una, due, tre, quattro persone qui che ancora non conoscono la libreria l'indirizzo è via Pietro Calvi 29 è un indirizzo che dovrebbe essere affisso sui muri di Milano scolpito nelle nostre menti e nei nostri cuori bisognerebbe forse inventare un passaparola un qualcosa di particolare perché molte donne hanno bisogno straordinario bisogno a Milano di questo nutrimento Milano è nel mondo ma parliamo di questa Milano dove voi lavorate questo nutrimento che ci dà la cucina relazionale che vi parlo nelle nostre cuoche che adesso conosceremo che voi già conoscete ma che avevamo piacere di sentire parlare è un luogo fisico che esiste davvero che non è inventato è proprio una vera e propria cucina che sta dietro la libreria una cucina che funziona una cucina che non è una messa è una cucina raffinata una fonte di piacere un discambio di amore e diciamo che ha come base l'attitudine e la cura io direi che è arrivato il momento di leggere velocissimamente questo quarto copertina abbiamo affidato a facebook qualche parola qualche impressione per cercare appunto di raccontare a Milano quello che succede in via Pietro Calvi velocemente vi leggo quello che ha scritto Viviana Rampello sulla quarta di copertina un quaderno dall'apparenza modesta che si rivela alla lettura uno scrigno di sorprese un baule pieno di tesori sorprende chi l'ha scritto Rossella Bertolazzi Ottavia Colabella Ida Fare Stefania Giannotti Clelia Pallotta e Anna Maria Rigoni donne molto diverse fra loro per età, professione, inclinazioni legate da un piacere un vizio una passione una mania una fissazione comune cucinale sorprenderà chi lo legge che sia venuta una volta o spesso alla cena al Circolo della Rosa di Milano e sappia quindi quanto delizioso sia ritrovarsi a tavola con buoni cibi e ottima conversazione e scopra l'evidenza che tiene insieme Libreria delle Donne e Circolo un'unica impresa politica un'impresa politica unica e se chi legge non è mai venuta o venuto speriamo si senta già invitata e venga a pensare amare, dormire e ci dare bene con noi il gruppo Estia o Estia mostra con estrema semplicità e fudore divertimento e sapienza la consapevolezza che la relazione con se stesse l'altra l'altro il mondo è il fondamento primo dell'agire politico l'unica pietra su cui costruire convivenza e civiltà e che nella materialità delle nostre vite si nascondono le piccole verità i miracoli quotidiani che trasformano la realtà queste sono le parole scritte da Lilli posso chiamarti Lilli a cui adesso accederò al microfono chiedendolo di farci un breve racconto che ci introduca nell'argomento ma più che altro farò un breve racconto del perché ho pensato che questo libro fosse necessario non solo perché lo scriveva ma per tutti noi che lo avremmo letto è anche un brevissimo racconto di quanto sia complesso lavorare con delle cuoche varie perché ognuna di loro è lunatica a modo suo è prepotente a modo suo scrive bene a modo suo e poi ha però anche una grande consapevolezza di quello che sta facendo nel momento in cui cucina al circolo della rosa allora il libro era tanto tempo che avevo in mente che era era abbastanza assurdo avere in questa cucina 5-6 donne importanti intelligenti molto brave come cuoche ma anche molto brave nelle loro singole professioni molto forti nelle loro passioni lavorative e lasciare in qualche modo che quel cantuccio che si erano in qualche modo ritagliate per la loro politica per quella di cucinare rimanesse senza parole scritte senza una possibilità di rimanere per tutte e per tutti in secolo a secolo perché i libri questo fanno rendono molto più lunga la vita delle cose allora volevo fare questo e volevo anche trovare il modo migliore per me per ringraziarle nel senso che mangiare al circolo è un insieme di cose molto importanti e io avevo mangiato lì tantissime volte mi sembrava assurdo non trovare la forma giusta per me di ringraziare io amo i libri mi piace scrivere mi piace leggere mi piace farli fare quindi è ovvio che ho pensato bisogna fare un libro e nel farlo ho scoperto una cosa molto importante politicamente ho messo a fuoco meglio che cosa mi interessava politicamente del loro lavoro perché loro mi hanno insegnato nel farlo e poi nello scrivere la loro esperienza mi hanno insegnato che il cibo è veramente un linguaggio un linguaggio come i tanti altri che attraversano il mondo e questo linguaggio è un linguaggio particolare perché appunto tiene insieme tiene insieme l'intelligenza la grazia la follia con cui si cucina fa parlare i corpi quando dico fa parlare i corpi fa parlare i loro corpi mentre cucinano fa parlare i nostri corpi mentre gustiamo la loro cucina e se vogliono essere molto molto lirici questi corpi sono attraversati da una sorta di corrispondenza sinestesica ci sono tutti e cinque i sensi l'udito no ma insomma gli altri quattro sono tutti presenti golo la gola il navolo il tatto il tatto perché poi i cibi si toccano anche con o meno uno strumento a volte anche con le dita questa cosa questa capacità che aveva il cibo di essere un insieme di sensazioni e di piaceri mi è proprio arrivata arrivata attraverso di loro non è una cosa che provo quando vado al ristorante non è una cosa che penso quando mangio bene non l'ho pensato lì perché erano loro a farlo a fare questo gesto e ad esempio interrompere il come posso dire il lavoro teorico del pensiero quando discutiamo quando quando mettiamo appunto le nostre pratiche in libreria venivano tutte queste cose venivano interrotte in modo molto divertente da scusate dobbiamo leggere il menu ecco questo questo piccolo atto ma questa interruzione questa circolarità fra l'alto e il basso no? mangiamo o pensiamo questa cosa mi aveva sempre molto incuriosito e credo che appunto tanti sono i grazie che volevo dire loro con questo libro adesso vi ho detto solo quello principale il cibo è veramente un linguaggio e loro lo sanno insegnare molto bene poi magari dopo vi racconti il resto bene allora tra l'altro sì dovete sapere che quando ci sono gli incontri alla libreria in particolare io ho partecipato alla lezione di filosofia di Mesa Muraro ecco pare che in cucina poi le cuoche ascoltino commentino e qualche volta se leggerete poi questo libro qualcuno di loro vi racconta che mentre si parla di altissimi temi si brucia magari qualcosa e quindi l'altissimo tema viene abbandonato per naturalmente precipitarsi a salvare il salvabile di quello che si sta cucinando questo è un atteggiamento molto femminile diciamo il fatto di comunque dedicarsi all'emergenza prima di tutto dunque poi qui abbiamo la nostra Quacci la quale si è occupata social fondatrice giustamente partecipante appassionata però mi sembrava che il Circo della Rosa ti riguardasse in qualche modo sono molto molto legata sia la libreria delle donne che il Circo della Rosa ma al me devo dire non l'ho fondata io perché allora io ero a Parma e casomai e poi venendo in dirige con altre amiche sul centro della libreria delle donne aprimo a Parma la biblioteca di Parma però non esistì il richiamo della libreria dalla politica del Presidente della politica della libreria e in effetti verso i 33-34 anni quindi molti anni dopo dalla fruttura nel 75 la profunda della libreria delle donne in parte del 95 arriva i altri anni quindi parliamo di via Togana però soffro di non essere una delle soci fondatrici ma ma sono qui presenti e sono tante sì sono qui presenti le soci fondatrici e sono tante quello che vorrei chiederti come pensi che la cucina relazionale possa in qualche modo legarsi poi all'attività della libreria beh guarda le donne che hanno dato luogo quindi avete già detto i nomi avete già detto i nomi a questa cucina che lo ripeto per la terza volta di me nel senso che l'avete già sentito ma cerchiamo di dargli del corpo a queste parole domande in un senso più ricco e in questo senso sono anche domande che arrivano poi alle quote presenti nel pubblico la cucina relazionale è una cucina ovviamente di relazione ma cosa significa che le donne che cucinano hanno una relazione fra loro non sono patitate lì una per una solo per l'amore appunto e ripetere i fornelli e aprono cucinando e aprono con questo dono che fanno del cibo e in tutti i loro pezzi la cosa assolutamente ha raccontato con sottigliezza con sapere politico con vive intelligenza hanno la relazione con gli uomini e donne che in libreria e al circolo della nota vengono e gustano il loro cibo quindi è un circolo questa relazione è una relazione circolare che è molto solo mi diverte poi se volete ne parliamo sia con le buocche che con lilli che alla fine degli interventi è vero molto diversi ma tutti sfiziosi intelligenti e anche dolorosi quando occorre c'è un glossario un glossario delizioso dove appunto questi termini vengono poi chiusati e commentati in modo antiscientifico ad esempio noi abbiamo definito in modo come dire alla mano della cucina relazionale anche se ha un vettore fortemente politico se si va a vedere in un glossario a firma di Ida Farè alla coce perché in ordine alfabetico cucina relazionale punto di catacrofe a certo punto di catacrofe Ida scrive il gesto anche se solitario del cucinare prevede quasi sempre il dono e lo scambio l'aggettivo relazionale rinchisce di senso la cucina nominando un valore simbolico e di scambio ancora più il punto di catacrofe lo riprende da tu quindi lo riprende da una definizione della fisica e diventa invece di a tempo quasi scrive anche Claudia Parlotta la Stefania comunque in realtà allora c'è che tutte tre che vi ho letto di nuovo per la seconda volta il vostro libro e tu citi il punto di catacrofe lo cita quindi Stefania e Claudia Parlotta del momento in cui appunto ci si trova di fronte a un cambiamento improvviso di quello che si sta facendo in cucina e quindi si c'è Tom ma stiamo anche davvero adesso lavorando nella grande sana con il petto e le fornelli e allora o la cosa va distrutta o la cosa prende creativamente un nuovo agio quindi è divertente questo doppio passo del compensevole del politico e del simbolico che sempre c'è e anche della definizione fisica-matematica che potete trovare cioè un libro che lavora su più livelli a me questo è molto divertente infatti questo è interessante abbiamo qui la foto tra l'altro parliamo la foto della della Maglia di Mori eccola no eccola lì la quale per esempio dov'è Anna Maria che adesso vediamo il microfono la quale per esempio ci parla della migliore sintesi d'amore possibile in un particolare momento la migliore sintesi d'amore possibile in qualche modo è riferita anche all'atto del cucinare quindi ti passo il microfono tramite l'aria possiamo possiamo però forse finire invece un giro un momento di questione ho paura come va prego beh in questo caso è una relazione tra me che cucino e le altre che mangio che in certi momenti diciamo è una situazione di amore più ricca più affettiva in altri momenti magari ci possono essere delle tensioni delle incomprensioni e queste incomprensioni si possono tradurre per esempio in un cibo che non è come io lo voglio in quel momento però so che in quel momento è comunque la migliore sintesi d'amore possibile e la migliore in cuoca possibile ha un parallelo un'assonanza con la migliore madre possibile beh sì diciamo che il tema riprende un po' tutto il discorso del che ho suonato anche in questo ultimato il tema della madre perfetta della madre perfetta della donna perfetta della figlia perfetta noi abbiamo diciamo questa ansia della perfezione allora dire anche la cuoca in fondo è la migliore cuoca possibile la cuoca migliore è la cuoca che in quel momento lì riesce a preparare quella sintesi di gusto che è quella migliore in quel momento lì all'interno di quella relazione ecco e diciamo accettando anche il fatto che non sarà la migliore in assoluto ma è la migliore possibile vi ringrazio volevi aggiungere qualcosa no mi sarebbe piaciuto fare proprio un giro di questioni e interpellare una meruna di copia ad esempio Ida Farecch che inizia il libro perché la fondatrice si spiega come è cominciato comincia il capitolo con come è cominciato è cominciato in modo doloroso è cominciato con e lo dice e quindi io lo posso riprendere con la morte di un suo figlio nel momento in cui ha visto un possibile ha visto di dolore invece di buttarcici dentro ha avuto una torsione dice Ida ha avuto un movimento a spirale per cui è riuscito a vedere il mondo l'altro e il cucinare il donare il fare l'alzare appunto il livello di dolore a qualcosa di alto e simbolico gli ha permesso di vivere e di offrire una cosa di molto importante Stefania Giannotti fa un bellissimo pezzo che tra l'altro riesce a darci l'idea fa un scuso vero e proprio di che cosa è stata la lucina che negli ultimi nella seconda metà del novecento legata all'architettura ci ricorda devo fare anche pallotta nel suo pezzo che Simone Weil è una grande filofra per cui tutti lo sappiamo bene ricorda che il punto più alto della civiltà è il momento in cui il manuale entra entra e nel loro caso fa diventare questa manualità la fa diventare in qualche modo alta la fa diventare in qualche modo politica quindi se da Ida scusa vorrei sapere la sua esperienza cioè che ci raccontasse con le sue parole come è cominciato da Stefania vuole sapere tutto il suo cammino che l'ha portata appunto dall'essere architetta designer di interni a partecipare aprire un ristorante tanto piuttosto famoso anzi decisamente famoso a Milano e a entrare e uscire sia prima del 2001-2003 sia dopo nella cucineria sia a partecipare con le altre a questo appunto giro virtuoso questo lavoro virtuoso per questo più che dare la parola personalmente dico il mio desiderio a una cuoca interpellando a noi io adesso farei proprio un giro si ma era già previsto ha parlato a Anna Maria darei la parola la parola scusa a Clevia quindi a questo punto visto che abbiamo la foto di Ida Faret diamo il microfono a Ida Faret che ci parla appunto di questa elaborazione che si può fare davanti ai formelli si può lavorare un luogo si può prego si io sono stata cioè il mio interesse è stato quello di come dire dare valore politico alla cucina che se non abbiamo Diodo non l'ha mai avuto negli anni 70 andavamo in piazza dicendo fuori le donne dalle cucine capisci quindi questa specie di Dio minore di fronte alle magnifiche sorti progressive della politica dello sviluppo industriale eccetera questo fatto primario questo gesto primario è assolutamente femminile perché poi oggi i uochi se ne sono impadroniti alla grande però tutti i cibi che noi troviamo sono stati inventati probabilmente dalle donne come questo è uno custodio della vita materiale quindi mi interessava dare un valore a questa appunto questo atto che è stato considerato sempre servile se non quando in mano ai grandi cuochi diventa spettacolo e diventa così quindi la storia torna indietro quindi la storia torna indietro la cucina delle nostre mari tu hai scritto che la storia torna indietro cioè che riusciamo a dare cucine invece adesso ci siamo tornati perché volevamo andare nel mondo studiare fare la professione quindi certamente nessuna di noi diciamo pensava di stare in cucina o di fare la casalina e poi adesso però secondo me al tempo della libertà femminile le donne possono appropriarsi di questo sapere da lungo custodito nelle segrete stanze che è sempre stato un po' ignorato anche se la cucina come dice Cleggia è sempre stato un luogo che attirava i bambini perché è il luogo del talogore del cibo e della di attrazione della casa infatti Stefania scrive Stefania è anche architetta o di cuoca scrive che appunto ci racconta nel libro e ci fa notare qualcosa che sappiamo tutte ma forse non ce ne accorgiamo che da l'ottocento in poi la cucina che era relegata magari in zone della casa un po' oscure un po' trascurate attraverso un percorso proprio culturale e architettonico poi come lei descrive bene e ci fa notare che arriva a essere il centro il cuore pulsante della casa e ci vuoi parlare? tra l'altro io aggiungerei Steffi che proprio il termine cucina relazionale cucina della memoria sono tuoi sei tu che li hai come dire nominati se non vuoi degli inventati sarebbe interessante che puntate del cucina della memoria parlare sì dunque la storia dell'ambiente cucina è dal punto di vista architettonico ma anche sociale a mio parere interessantissimo nel senso che appunto noi vediamo una modifica nel tempo straordinaria con andate e ritorno peraltro perché se all'inizio la cucina era mescolata alle altre funzioni della casa non era soltanto per povertà e per ricerca di calore ma appena è stato possibile delegarla è stata delegata in luoghi oscuri e lontani dai luoghi pubblici come persino infatti lo dico nel libretto quel genio di Valladio lo dice cioè dice mettetele il più lontano possibile questa storia è particolarmente interessante per me perché è una delle cose in cui l'opera femminile l'opera di città femminile veramente ha lavorato perché soltanto alla fine dell'ottocento e poi all'inizio del novecento sono state le donne del marito dalla prima che era mi pare che si chiamasse Becker poi la Meier e poi la cucina di Francoforte insomma hanno fatto diventare addirittura una questione del movimento moderno con questa evoluzione dalla cucina segregata alla cucina americana alla cucina al centro della casa alla cucina protagonista e infine proprio la cucina a cucina aperta e poi alla fine cucina al centro della casa quindi io ci tengo molto a sottolineare questa opera femminile ci tengo a sottolinearlo ancora più che nel far cucina cioè è sicuramente vero che il far cucina ha un patrimonio di memoria di tradizione fortemente femminile ciò non toglie che ad esempio io sono una di quelle che dice che gli uomini sono giustamente entrati a pieno diritto ho quasi ho stima dei grandi chef anche perché i grandi chef non è vero che rinnegano la memoria e rinnegano l'insegnamento materno per dirne uno Bottura che è il secondo del mondo il secondo del mondo il primo d'Italia parte proprio da sua madre la cucina di relazione c'entra qualcosa? la cucina di relazione c'entra sempre perché la cucina questo è importante di per sé nasce già di relazione cioè nello stesso momento in cui uno prende in meo un pentolino per qualcuno quell'opera lì è già un'opera di relazione non è necessariamente una consapevolezza cioè noi l'abbiamo fatto diventare una specie di slogan cucina di relazione che cosa abbiamo voluto significare prima di tutto la vicinanza a una politica di relazione a una pratica di relazione che è quella della libreria delle donne e poi abbiamo voluto significare l'importanza cioè abbiamo voluto significarne un salto rispetto al puro fatto di nutrimento o al puro fatto di cura non per diminuire questi ma perché la relazione ci sembra che alzi il tono in qualche modo cioè la faccia diventare un dono e gli dia quell'importanza a cui abbiamo avuto il bisogno di scriverla la memoria che dice Rosaria la memoria è fondamentale per tutte per tutte le cuoche e per tutti i cuochi ma come dire bisogna sapere tutto per andare avanti cioè la memoria serve essenzialmente a innovare perché se se non se non se non se non ci fosse un'innovazione sarebbe un disastro e d'altra parte se se la memoria rimanesse tale sarebbe altrettanto un disastro no una cosa volevo dire io non disconosco l'opera di chef soprattutto non la disconosco adesso che è il momento in cui tantissime donne stanno emergendo anche a livello di chef è vero una volta forse ce n'erano meno però adesso ce n'è tante basta aprire le pagine di un giornale e si vede che tanti nomi vengono avanti grazie puoi restituire un attimo il microfono a Ida dietro di te si da pare che non solo a me ovviamente ma mi dice che il tuo racconto scritto era molto appassionata vorrei che tu ti dilungassi ad esempio ci raccontassi dell'altro ad esempio anche a me che non sono poco non sono una grande dimostrata che dice come sapete anoresse camale come direbbe il zucchero a velo la mia amica si mangia no? mi ha curiosito che sfatate tutte ma tu nel tuo primo intervento molti luoghi comuni il fritto formale il fritto è pesante c'è c'è questa specie di piccolo duello anche questo piuttosto divertente ma istruttivo tra battere a mano le cose usare la come si chiama il frontino cioè è il cono che io devo parlare di cucina nel senso che non c'è persona meno adatta ma posso dire insieme a Fernanda Pivano che si vantava di non saper cuocere nemmeno un uovo che invece Ida ci spiega che non è per niente semplice fare un uovo fritto perché una parte deve essere cotta prima e una giunta più fresca quindi sono tutte come dire modi di sfatare i luoghi comuni le cose che diciamo che ci danno sapere ci danno una certa sapiezza e poi passerei per ordine anche al pezzo che crede al pallone ma guarda a me mi hanno trattato un po' mi hanno troppo lo dita della cucina perché uso la frusta e non le macchine eccetera eccetera sentite state sentendo riuscite a sentire no non senti bene Chida parla più forte ma forse l'hai spento ecco adesso lo riacci si no si sente si adesso si e ho dicevo che mi trattano un po' le mie colleghe come una troglodita perché faccio il go dicono che lo sei la panna montata con la frusta e chiava nera montata con la frusta io ritengo che loro dicono di no che a Estia ognuno fa come vuole perché voi sapete nel movimento delle donne il grande dibattito ma non c'è la linea da seguire maggioranza minoranza ognuno fa poi quelle che le pare che la politica delle donne la politica delle donne è una questione grazie da sempre io so che una tua che Cledia Pallotta è una tua grande amica e a Cledia vorrei chiedere come è cominciata adesso vediamo se riusciamo a dare microfono arriva eccolo lì che arriva Cledia il tuo testo è bellissimo l'interno già detta vorrei chiederti è un discorso difficile ma come è cominciata ecco l'ho scritto è cominciata perché Ida aveva voglia di farlo questa cosa io sono andata dietro per sostenerlo e siccome mi piace cucinare non è stato neanche voglio bene a lei mi piace cucinare è stato facilissimo non mi è costata nessuna fatica in più questa cosa veniva fatta nel luogo per cui io do una grandissima autorità e un'importanza nella mia amica che è la libreria del nome il circo della rosa per cui è stato quasi naturale ecco autorevole e servizievole sono due parole che tu metti insieme sì sì perché perché la cucina secondo me è un luogo non servile ecco chi cucina non si mette in una posizione servile perché si mette semmai in una posizione servizievole e autorevole contemporaneamente ma si vede l'autorità non la decidi tu per te la tua vita ti viene data e quando sei in cucina ti accorgi che ce l'ha l'autorità all'oltre hanno le persone che hanno fame che hanno voglia di mangiare che hanno aspettano l'ora di cena il modo in cui ti parlano in cui ti chiedono qualcosa da mangiare ti attribuisce autorità perché stai facendo qualcosa per alleviare un loro disagio e creare un loro agio e quindi questa attività è conosciuta è autorevole e la famosa frase hai mangiato sì quella è una frase che io pensavo nella mia ingenuità provinciale quando sono arrivata a Milano che fosse un modo di dire nostro cioè nelle Marche si dice sempre così hai mangiato hai mangiato mia madre aveva 50 anni ancora mi chiedeva se avevo mangiato e hai mangiato è una domanda amorosa insomma è un modo per sapere se l'altro è sia la sua agio e tu scrivi una frase che mi ha molto corpito e che vorrei che commentassi tu dici accade più o meno la stessa cosa nelle relazioni solo una preparazione dinamica a cui non si può smettere di badare le relazioni possono bruciare scuocere e andare a mare sì e quindi questo parallelo perché riprendendo il discorso della docina relazionale in qualche modo come dice lei inventata da Stefania ecco tu dici che queste relazioni fossero nominata in qualche modo ma le relazioni sono cioè io le vedo un po' come un lavoro da un certo punto di vista un po' come vedo un lavoro la cucina è un lavoro di creazione continuo eccessante che va tenuto a bada perché se la abbandoni va per i fatti suoi e non si sa mai dove va perché siamo tutti esseri dinamici e viviamo in una connessione in continuo movimento e trasformazione quindi se se non si mantengono questi figli no? e quindi se non si bada a mescolarle a farle prendere aria quindi attenzione ci vuole attenzione grazie attenzione mi giuro adesso prima di parlare ancora con le nostre cuoche magari ho provato a leggere qualche piccola frase ma sono tutti testi molto molto belli che fa molto piacere leggere e vi dirò che anche le ricette sono abbastanza straordinarie io vi parlo così come una normale una comune lettrice ci sono anche un sacco di suggerimenti interessanti è davvero bello questo tessuto questo ordito che sta tra che si intrecciano su temi alti e bassi che in realtà poi sono tutti altissimi e posso chiederti erano belle le tue considerazioni adesso che abbiamo sentito parlare le nostre cuoche varie che tu hai ispirato e diciamo a cui hai fatto questo omaggio oltre l'omaggio cos'altro c'è? ma allora anche l'omaggio in termini sostanzialmente politico vuol dire riconoscere il lavoro che loro hanno fatto per tutti noi e per chiunque è passato dal circolo e trasformare questo riconoscimento in riconoscenza la mia è davvero semplice riconoscenza nei loro confronti poi facendo il lavoro mi sono anche resa conto che non erano solo loro che mi avevano portato a pensare questa cosa che dietro a questa cosa poi nel fondo ognuno ha degli elementi di autobiografia più profonda di quelli che appaiono io ho ripensato a quanto avevo amato perché è un libro che avevo amato veramente a fondo al faro di Virginia Woolf non mi si sdago e non fa niente mi si sdago e fa una cena e in quel modo la Woolf inventa come dire intanto la grandezza del gesto quotidiano femminile non eroico inventa una nuova protagonista del novecento e io ho ritrovato evidentemente poi per fili strani che dominano in modo anche inconsapevole ho ritrovato che era questo che io volevo tirare fuori da loro perché mi sembrava questa la cosa più importante che loro fanno che anche semplicemente mettendo a tavola delle persone si costruisce quel miracolo quotidiano che per me è fondamentale perché è nella bellezza della quotidianità che io riesco a riconoscere intuire forse ad amare il sacro ma mi capita in altri momenti in altri livelli mi capita con la natura e tra gli umani mi capita nella quotidianità questa cosa la dice ad esempio anche in modo diverso ovviamente Anna Maria Anna Maria parla di come in fondo il gesto che può essere ripetitivo si cucina tutti i giorni nelle case cioè la noia è anche mortale per certezza questa ripetitività questa ripetitività può diventare dentro il nostro stare nella quotidianità pura relazione e amore ecco questa cosa mi ha fortemente colpito perché ho ritrovato appunto percorsi più di studio miei con quello che vedevo quello che vivevo quello di cui approfittavo perché di voi si approfitta di tutto questo bene che ci viene dato che è un bene molto particolare davvero fatto di tantissime cose di cose che si intrecciano poi adesso avete solo cominciato a sentire sentendo parlare loro quanto ci può essere dietro a ognuna delle loro singole esperienze perché sono insieme ma sono anche molto diverse e questa diversità è quella che forse rende anche quella cucina così interessante e così bella sono insieme ma sono insieme litigando sono insieme facendo ognuno ognuna quello che ha voglia di fare e anche lì facendoci vedere che desideri o talenti sono diversi che le donne non sono mai tutte uguali neanche quando cucinano assieme e questa è un'altra leva politica molto importante vista in pratica vede il testo di Anna Maria per che cosa? innanzitutto anche questa sua capacità di affondo autobiografico quella che ha visto di Anna Maria è di montagna e come mai ha messo la montagna perché Anna Maria mi ha scritto che non sopporta i vegetariani perché viene da una famiglia in cui c'era freddo bisognava nutrirsi con la carne bisognava avere cibi che davano sostanza che facevano sangue che facevano calore e mi ha dato ad esempio in questo di nuovo a partire da una quotidianità sua una prospettiva completamente diversa rispetto anche alle chiacchiere che si sentono intorno la carne fa bene la carne fa male bisogna mangiarla bisogna mangiare solo c'è tutta una prospettiva che invece nasce dalla sua profonda esperienza lei non potrà mai dimenticare questa sua radice e in questa fedeltà c'è un'altra possibilità un altro possibile sguardo su quello che si dice del cibo quando non leggiamo sui giornali ma quando guardiamo di dieta tutta questa cosa come vedete si moltiplica è proprio un'influorescenza continua possiamo avere un commento? beh diciamo non era solo un problema in montagna di avere un cibo calorico è che lì cresce solo erba quindi erba e verze allora di fronte al fatto che gli esseri umani non possono mangiare direttamente l'erba comunque è necessario avere diciamo delle mediazioni rispetto al cibo in questo caso queste mediazioni sono incarnate dagli erbivori che trasformano l'erba lì cresceva solo un po' il grano samaceno di cui mi parlavano i tempi ma diciamo la loro sopravvivenza era data dallo scambio dei prodotti formaggi cose così che motivano importare dalla pienura le cereali perché esistono anche le cose materiali che portano alle scelte alimentari si in qualche modo mi ha colpito leggere quello che tu hai scritto in questo senso perché è chiaro che tutti stiamo ragionando e spesso si ragiona sulla possibilità di essere vegetariani ecco mi sembra che tu in questo modo abbia detto che c'è anche un modo di non essere vegetariani ma di essere comunque etici e questo è anche cioè quando fa parte della tradizione quando fa parte proprio della tropologia del luogo ecco forse è meno stressante dal punto di vista dell'anima nel fatto di mangiare carne ecco voglio chiedere adesso a Rosaria può che dalla nascita soggettività diverse sì un momento a tornare che è un momento a una una frase del pezzo che anche a me molto piaciuto di Anna Maria Rigoni che però ritrovo con altre parole anche negli scritti di altre Anna Maria scrive ed ha anche il titolo al capitolento si cucina con quello che c'è cioè la bravura della cuoca Stefania Giannotti parla di cucina povera mentre un tempo la cucina povera era appunto quella che ci stiamo raccontando più di cuochi oggi riescono a dare straordinarie ricette proprio partendo da alimenti basilari si intreccia si intreccia tutto questo negli scritti con parole diverse ripeto che voi fate e approfitto per fare la mia colpa prima di leggere il vostro libro si è un po' abituato superficialmente lo credo o almeno io in parte pur essendo molto legata al pensiero della libreria delle donne ma anche al pensiero politico delle donne in generale a leggere un'arcaterba di libri di cucina alcuni straordinari che ne so Camilleri la cucina di Montalbano un anno con Montalbano oppure Karen Blix la cucina di Babette e potrei dilungarvi ma nel vostro libro questo intreccio di passione di passione politica di volontà di dono di capacità come diceva anche di conflitto ma un conflitto non distruttivo di valorizzazione e di andare e ritornare dalla libreria anche qui in molti dei pezzi che ho letto si citero voglio fare anch'io questa vita addirittura che porta la letterina che è stata scritta non so se da lei o da una del gruppo di estia Luisa Morano per le sue belle lezioni importanti il cibo dell'anima il cibo del corpo il cibo dell'amma cioè lezioni che hanno molto attratto le persone non solo noi che siamo più legati a questo pensiero ma in generale la stanza del cerco di oro è veramente piena ecco questo rimando di pensiero di passione di capacità di conflitto di usare quello che c'è Stefania forse ha aggiunto anche particolari più ricchi con un excursus sulla cucina che lei conosce avendo avuto appunto un ristorante quasi avendo studiato come lo devo dire quindi sui grandi cuochi ma in questo circolo virtuoso come l'ho chiamato prima che rende questo libro interessante spiazzante rispetto a un sapere banale e io dico un po' comune perché in qualche modo legge la letteratura che io sapevo di avere quindi quando io ho saputo che uscivo un libro di cucina nonostante sapessi che molte di queste donne le mie amiche scrivono squisitamente ho detto un altro libro di cucina poi l'ho letto e sono rimasta invece ammirata impietrita cosa vuol dire commossa quando era a caso anche di commuoversi ho imparato delle cose ma l'applauso è a loro alle cose alle cose un applauso per chi è bella dichiarazione d'amore proprio e ci voleva e a proposito di questo ho notato anch'io alcune nei testi alcune descrizioni delle commensali quindi dei loro capricci delle loro pretese del fatto che magari uno è lì e dimentica per un attimo questa riconoscenza che si deve alle cuoche e quindi fa richieste particolari protesta non c'è abbastanza da mangiare non si riesce a fare la spesa giusta insomma ci sono tutta una serie di notazioni molto interessanti che in qualche modo ci illuminano anche sulle nostre difficoltà relazionali tra donne e donna e mi sono sorpresa anch'io insomma faceva caldo non c'è ed è stato molto divertente trovare in questi testi questi piccoli ammonimenti e capire anche con quanta tolleranza poi queste cuoche considerano le loro avventrici avventori una cosa che volevo chiedere a Stefania sul suo testo molto bello Stefania molto a parlarci di sé a parlarci della cucina relazionale e a darci delle ricette degli spunti e così a dare qualche lezione proprio di vita e ha fatto anche una cosa secondo me interessantissima cioè consiglia e descrive una serie di libri che non so se dire rari o speciali e quindi io volevo chiedere adesso a Stefania se voleva parlarci di qualcuno di questi libri ecco io per esempio sono molto tentata del suo scaffale tra le pentole sempre questo legame che torna tra cucina e libri non tutti lo fanno anche in cucina ci sono due bellissimi cuoche ribelli ci sono due bellissimi consigli di lettura che danno in particolare subito dopo ti passo la parola no 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 cuoche ribelli può che ribelli anche la cucina napoletana per esempio che tra l'altro sono in libreria si possono vedere io e Cle abbiamo messo questi libri di cucina perché in effetti per una buona il libro di cucina è il più bello di tutti cioè nel legge si potrebbe non finire mai io guardavo adesso negli ultimi anni soprattutto quando ero in ristorante guardavo lo scaffale dei libri di cucina e dicevo morirò senza averle provate tutte senza averle tutte e quindi nello scaffale abbiamo messo i libri più amati e più consumati poi appunto questi libri in cucina hanno un aspetto molto particolare perché sono un po' upi un po' macchiati di sugo un po' così un po' colane anche questa è una caratteristica cioè non puoi tenerli nella libreria normale è nella libreria di cucina in particolare i libri che abbiamo citato quelli che avevamo in libreria li abbiamo portati anche qua perché alcuni sono effettivamente eccezionali la cucina napoletana è un testo sacro a mio parere perché veramente è l'origine della cucina del sud e riprende tutta la storia da il polio Cavalcanti in avanti ed è molto bello divamente consigliato poi ci sono i libri più spiritosi come ad esempio Cuoche Nibelli su cui avevamo fatto un lavoro insieme a Ida Farella avevamo anche presentati in una serata insieme ad altri temi e Cuo Grimelli sono tre cuoche molto diverse una dall'altra due rivoluzionarie e una in particolare ricordo una frase che mi era molto piaciuta che diciamo che fa va bene per estia che parla di queste guerra lotta rivoluzionaria morti e feriti e poi dice e dopo la lotta andando in cucina a fare le luci fritte e questo va alla dimensione di come a un certo punto c'è un ritorno alla realtà delle cose che è un motivo perfudico anche che nella cucina si elaborano molte difficoltà molti dispiaceri addirittura dei lutti perché la cucina ha questa forza straordinaria uno che ti lascia un attimo materiale e mentale perché tanto che cucina devi pensare quindi ti assorbe completamente se c'è il problema che il marito l'ha lasciato in quel momento non te ne potrebbe importare di meno e poi soprattutto io dico che ti fa anche da medicina per dolori molto più grandi perché ti riporta alla realtà cioè è un modo per ritornare alla realtà e poi è una passione di cui non ti vergogni e quindi è una delle poche che ti puoi concedere anche quando la depressione ti tallona o quando il senso di colpa ti divora ecco una passione di cui non ti vergogni ma la passione politica quanto c'entra? fina? sì non ho detto fino adesso una passione politica ci entra moltissimo e sicuramente per noi coniugare queste due passioni è stata importante cioè è un lusso ecco non ho mai usato questa parola neanche nel libretto adesso la uso ma avevo detto nel libretto che fortuna poter coniugare queste due passioni quella politica e quella divina ecco esatto proprio qui lo devi arrivare ecco e adesso addirittura dico che è un lusso perché è veramente molto bello poter lavorare in quella cucina passando prima dalla libreria vedere gli ultimi riusciti a raffarmi uno con la radio accesa che ti dice quello che sta succedendo in sala cioè è una domenuazione che funziona bene allora noi dobbiamo anche dire due parole sulle tue quote assenti prego voglio fare una piccola scusa assenti non te c'hai fare i consenti voglio fare una piccola precisa certo non c'era nessuna intenzione quando si parla metti più vicino quando si parla del nostro pubblico sono le persone che vengono a mangiare sono gentilissime pazienti e cortesi cioè non c'era nessuna intenzione assolutamente sì solo che appunto come noi donne siamo un po' svagate ti può capitare la vegana delle 8 di sera che vengono le 8 di sera dire che lei è vegana e tu la guardi negli occhi e dici che sono migliore non posso farci niente bene allora io adesso vorrei tra un attimo che qualcuno assolutamente sì tu hai chiesto la politica e la cucina ma cioè per me a parte la passione la collegazione di una passione ma mi sembra che sia trattato un po' come due cose diverse io dico se le donne hanno questo sapere storicamente il portarlo alla luce il farlo diventare diciamo un gesto politico cioè mi sembra che sia questo un'ottima strategia verificare sì grazie io prima di sentire qualcosa da voi mi piacerebbe sentire qualcuno fra il pubblico che ci dice qualcosa che ci aggiunge qualcosa che ci regala qualcosa però prima di farlo io vorrei che che Lili ci nominasse le persone le cuoche assenti le cuoche assenti sono Natalia Colabella che è la nuora di Ida Ferret che è la più giovane e che ha scritto un pezzo molto più breve perché ha meno storie alle spalle nel gruppo Estia e però riuscite a dire una cosa molto importante anche a lei ed è il suo grazie a qualcosa che prima di venire lì non aveva capito la seconda invece vorrei che Ilaria forse riesce a mettermi ecco la seconda cosa che volevo dire rapidamente è Rossella Bertolazzi che stasera non c'è perché è in tesi e di lei voglio dire una cosa a partire dal fatto che tutte le nostre cuoche hanno scritto in qualche modo un memoir e quindi hanno anche lavorato in parte in modo autobiografico Rossella ha fatto esattamente la cosa che corrisponde al soprannome che ha lei è soprannominata in cucina il padre eterno ma anche chiamatemi bimbi chiamatemi bimbi perché tante spezzetta svinuzza la velocità della luce sempre seduta immobile e da lì come dire governa la cucina e tutte quelle che sono lì ma di Rossella la cosa interessante è che non ha scritto cioè non è che non abbia corrisposto a quello che le chiedeva ma lo ha fatto davvero a modo suo non avendo nessuna voglia di scrivere un bel niente su quello che stava facendo lì ha cucito la storia delle altre cioè di tutte quelle che con lei sono passate nella cucina quindi il sbagliore della pinuccia il sbagliore della pinuccia il brasato ha messo insieme i propri ricordi nella propria memoria la messa facendola incarnare da qualcuna che ora è passata a cucinare di lì o a qualcuna per la quale era stato deciso un piatto particolare o qualcuna che aveva fatto un complimento particolare sul piatto quindi ha detto di sé solo ed esclusamente attraverso tutte le altre di nuovo mettendosi al centro come un vero padre eterno bene grazie allora c'è qualcuno io ve lo faccio ancora vedere cuoche varie fuochi la cucina di bestia io vi dico di prenderlo là c'è un banchetto scusate non voglio fare la piazzista ma davvero vale la pena perché è delizioso c'è dentro veramente di tutto può essere utile in moltissimi sensi e questo penso che fosse il fine e lo scopo e lo scopo e lo scopo